Aprile non è ancora terminato, eppure i dati che arrivano dai carabinieri in materia di spaccio di droga sono allarmanti. Da inizio mese gli uomini del comando provinciale di Milano hanno già arrestato 75 pusher, un dato che sembra fotografare con chiarezza l'allarmante diffusione dello spaccio di stupefacenti a Milano e provincia. Nel corso di controlli stradali e interventi in borghese, intensificati anche per il periodo pasquale, i militari hanno arrestato 75 spacciatori e sequestrato oltre 300 kg di sostanze stupefacenti, 272 kg di ashes, 60 kg di marijuana, 18 kg di cocaina, 710 g di eroina, 110 g di droghe sintetiche, 140 piante di cannabis e 206.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Dalla piazza milanese sono quindi stati tolti 19 kg di droga al giorno, in media. Secondo le stime dell'arma, tale stupefacente avrebbe fruttato la filiera della droga al dettaglio fino a 5 milioni di euro. Non va meglio nella vicina provincia di Monza, dove sempre per spaccio di droga sono finite in manette quattro persone, una giovane coppia e due uomini tutti di nazionalità o di origine marocchina. I carabinieri di Serenio hanno sequestrato oltre 260 kg di ashes in tre distinti interventi.